Che c'era questo ragazzo che invita questa ragazza a cena? Mentre stavano a cena, dice oh, io ti offro la cena ma poi... Dobbiamo andare a letto insieme, eh? Quella, ma state zitto, ma che dici? Ma come che dico? Io ti offro la cena, poi dobbiamo andare a letto insieme? Ma state zitto, state zitto, insomma, finiscono di cenare. Si mettono in macchina e lui insistiva. Dice oh, io la cena l'ho pagata, ecco il conto. Mentre dobbiamo andare a casa tua, dobbiamo andare a letto insieme? Ma che dici? Lassi aperte queste cose? No, no, quando andiamo a casa tua dobbiamo andare a letto insieme. Arrivano sotto a casa di questa ragazza, lui che fa? Scende per prima della macchina e si mette per traverso davanti al portone di casa di questa ragazza e non la voleva far passare. E quella ragazza dice oh, fammi passare, io mi devo andare a dormire. No, se non mi dici che quando andiamo sopra a casa tua andiamo a letto insieme. Ma che dici? C'è sta mia nonna che si sente male? Ma che me frega a me da tua nonna? C'è noi dobbiamo andare a letto insieme? Ma mia nonna si mora da un varto. Dobbiamo andare a letto insieme? A un certo punto sente una voce. Oh, se mi viene sopra ti mando a letto con mia moglie, basta che levi la mano dal citofono.